ciao a tutti amici sono sempre ragazzo non riesco che siamo qui perchè devo fare una cosa 80 stone bricks come li devo usare niente dico di no 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 creeper no creeper no creeper no meno male che ho detto che qua non sponava più nessuno non riesco a colpirlo no non no non non no pi e te e i o ok ok la ok 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 ora ok mi Io non ho sbagliato, non ho lontano lì, non ho lontano lontano. Non ho sbagliato, non ho lontano lontano, non ho lontano lontano. E poi la faccio tutto, perché io non ho fatto tutto. E ora non ho lontano lontano, ma ho fatto tutto. E poi non ho lontano la metà della mia righezza, per fare le nostre cose così. E non mi spocca la roba che ha iniziato. Facciamo questi di foto e facciamo due, due, tre, non facciamo quattro e facciamo tipo il 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 zembre esaldi con em penda in il e il 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 è di marco al s Ma è? Ma donna. Ma donna! Ma donna. non ho l'aggetto non ho l'aggetto e mi serve un mix che andremo subito a prendere e poi in passare ecco lì scusate l'interruzione è la piccolissima interruzione per voi è durata neanche un secondo neanche un attimo neanche un video poi andiamo e poi voglio vedere se voglio vedere se voglio vedere e si sono le 10 si sono le 10 io registro le 10 no non le 10 di mattina le 10 di sera ehm qua e così cosa dovremmo fare prendiamo così 1 2 3 vabbè io faccio non 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 eric e devo fare poco così poco vettucano poco 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 ah ecco che cambia perché questi sono blocchi l'uomo l'uomo il l'uomo ora si apprezzo che faccio, guardate però non me ne frega perché deve essere qualcosa di bello e molto, ma molto, ma molto, ma molto, molto, ma molto carino ok poi cosa dovremmo fare? allora, una cosa ce l'abbiamo fatta due era di fare una casetta di stone bricks e di legno, ma lo faremo nella prossima puntata perché ora non posso perché bandica mi ha un po' registrati di 10 minuti non so se questi sono 10 minuti però e adesso non ho un po' di tempo perché poi la cosa qua ma sono un po' di è un po' di tempo un po' di tempo cioè se ne so faccio che non c'è il senso che basta mi ha raggiunto la tua pagina non mi ha un po' di tempo mi ha un po' di tempo dell'imitazione d'accordo e ci vorrei mettere delle botole in vicino in questa parte ok ho fatto i 20 si 20 queste 20 botole anche se ne dovevo fare molte più poche però non fa niente mi piace solo la bellezza per fare tipo sacri forse non bastano neanche ecco non bastano forse che non dite così eh è figo ditemelo nei commenti dobbiamo fare anche di qua benissimo io ci metterò ok ragazzi penso che questo video possa finire qua ho messo tutti gli slab l'ho aggiunto anche la perchè mi piaceva e nel prossimo episodio faremo anche un'altra cosa che non vi dico spacco normalmente è un'altra cosa invece è del prossimo episodio e grazie grazie